Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi sono in un server con Magikraft Il suo canale se mi ricordo lo metto in descrizione E' in team speak lui E poi c'è questo vink05 che io non so chi è Ha fatto entrare sconosciuti questo tipo qui Lo scopo e prende il legno Ah c'è anche il più, scusa non sapevo che c'era il più, mi sto morendo Io lo metto sempre Va bene, comunque Siamo in questo server Oh cazzo Che è altro? Che è successo? Ah ho dimenticato di mettere schermi in zero, si chiedeva tutto il desktop Lol Va bene Dopo questi interminabili fail Prendiamo un po' di legno E se hai qualcosa glielo scrivi tu a quell'estraneo che io non conosco Quando sei molto sociale Lo so Oggi non è in team speak perché non riesce a connettersi per motivi strani e scuri Per motivi oscuri è la nostra conoscenza Non vi spoilereremo niente per ora Non perché? Va bene C'è un cubo di legno bugato, perfetto Sono sicuro che inizierà a piovere perché io la pioggia e me la chiamo Ah e poi siamo in vanilla, non abbiamo mod Giusto Vanilla Il follow the wind è andato a furtare da qualche parte Ma lasciamo perdere Che cosa c'è? Niente No che cosa hai detto? No detto infatti Ah che poi io avevo ovviamente anche un altro nome Eh... Pau Che sta a aver... Power of... Power of wind O power of the wind Che già... E' lui che ha fatto una canna da pesca Ah no sta lanciando palle di neve Ah ok Di neve ragazzi non preoccupatevi di neve Allora io prendi... Io mi aggiordo... Oh funghi! 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 Ragazzi dovete fare così quando trovate un fungo in natura dovete prenderli e mangiarli Qualsiasi essi siano Che sono fumoni allucinogene? Eh chi se ne prega tanto... Wow... Ho fatto tutto legno lavorato E anche... Anche l'Inventory Tweaks Ah io ho scordato di metterla... Ma esiste per 1.6 l'Inventory Tweaks? Eh sì c'è Io l'ho trovata Eh io no Va bene io sto... Vorrei solo capire che cos'è... Cosa sono questi puntini grigi nella terra Non l'ho mai capito Comunque... Oh... Sto scavando per favore Eh sì... Grazie per il tuo spazio Eh c'è qualcun altro qui che sta scavando Forza nerdiamo Nerdiamo tutti e tre Ok mi prendo un bel po' di... E' carbone Carbone E' mio Mio No no è mio È mio è mio Eh l'ho già preso Guardalo lì Guarda Guardami il carbone che ho in mano Ti piacerebbe avere questo pezzo di carbone Invece non lo avrai mai Che poi è l'unico pezzo di carbone ragazzi Di solito il carbone se ne trovano Una cinquantina di pezzi insieme E ne ho trovato uno La solita sfiga Sarà Però ancora uno sta piovendo è strano Sta portando il tempo Che... Non ne ho la minima idea Lol Eh è pomeriggio scusa sono sta... Carbone? No non è carbone R2 rompevi un blocco Eh vincenzo già hai iniziato a... Ad andare a cercare diamanti? Di già? Col piccone di legno prenderà sicuramente molti diamanti Poco mi assicuro Come... Poi si chiama vincenzo? Vinc05 E' anche più come il nostro coetano Coetaneo Coetano Ragazzi comprate il suo vocabolario Prenedicola Sempre meglio del mio Ogni volta che usciamo me lo dice Eh ma... Il mio è sempre meglio del mio Adesso come saliamo? Siedi sposti Grazie Adesso come sali? Siedi sposti Siedi dentro Ah... Grazie Eh torno subito Ciao Aiuto Ecco sono uscito Ce l'ho fatta Sei un... Cosa vi devo dire? Per oggi è tutto Come però certo Non sono neanche cinque minuti Non so Il mio video non me l'ho fatto ripartire Comunque per questo video E... Boomlight Devo andare Ciao Non devi chiamarmi Boomlight Boom Boom Baby Danger Baby Va bene Va bene Fingiamo che per questo episodio è tutto Ma non poteva mancarci La storica kill Perché non sei morto? Muori Mi ha rovinato l'infanzia Intanto lui ha trovato del ferro Vabbè ciao a tutti ragazzi